Il presidio dei dipendenti della città metropolitana è stato sospeso da lunedì, sono tornati tutti al lavoro. Oggi si attendeva l'esito delle concertazioni capitoline per sapere quali soluzioni sono state individuate per salvare le ex province siciliane. Con un posto sulla sua pagina Facebook comunicato e diffuso alla stampa, il sottosegretario all'economia Alessio Villarosa ha comunicato che la strada da percorrere è quella di un decreto d'occo per derogare la normativa vigente e salvare le ex province siciliane dal collasso. Come avevo già anticipato venerdì durante l'incontro con i dipendenti dell'ex provincia di Messina, in questi due giorni ha avuto incontro molto importanti con gli uffici della Ragioneria Generale dello Stato e con il ministro Tria, spiega il deputato Pentastellato. Nel corso dell'incontro con gli uffici sono state approfondite tutte le possibili ipotesi di soluzione per le problematiche che affliggono le ex province siciliane e si è riscontrata la fattiva disponibilità di tutti i presenti a predisporre una serie di misure di carattere normativo per consentire agli enti in difficoltà finanziaria di cudere i bilanci utilizzando in deroghe la normativa vigente gli avanzi e in tal modo poter utilizzare gli stanziamenti in conto capitale di provenienza ed entità certe. Tale proposta normativa verrà veicolata in un apposito provvedimento d'urgenza, continua Villarosa. Nell'incontro con il ministro è infatti emersa un'ulteriore ipotesi di lavoro che attraverso un'intesa breve con la regione, in seda di conferenza unificata, consentirebbe alle ex province di fare affidamento su risorse che verrebbero sbloccate per far fronte alle prime necessità di carattere finanziario, un'iniziativa che permetterebbe di dare dunque maggiori risposte alle necessità del territorio. Adesso però alle parole devono seguire i fatti.